Ben ritrovati, buon lunedì e buon Crypto Monday. Quest'oggi apriamo qui su Coin360.com come ogni lunedì con una schermata che ci fa vedere gli andamenti settimanali per quanto riguarda le monete più capitalizzate, a partire da quelle con superficie più grande, qui a livello dei riquadri, e vediamo BTC con un più 1.73%, con una dominance al 47% secondo Coin360.com ed ETH a 1722$, quindi un meno 1.86% rispetto a settimana scorsa. Chi fa un ribasso un pochino più rosso, quindi un pochino più intenso, sono monete come XRP, ADA e Matic, li vediamo qui, con un rosso più scuro. La settimana è stata una settimana molto movimentata, soprattutto a livello politico direi io, però come stiamo vedendo poi effettivamente stiamo assistendo all'ennesima lateralizzazione di questo mercato. Andiamo a vedere su CoinMarketCap.com che la capitalizzazione totale del mercato si mantiene superiore ai 1000 miliardi di dollari, con 1065 miliardi di dollari, e una dominance di Bitcoin che qui ci segnala al 48.1% con ETH al 19.4%, quindi con le due abbiamo circa il 70% di tutto il mercato. Se consideriamo solo ETH come capitalizzazione poi sappiamo che su Ethereum stesso c'è una marea di token, quindi di smart contract eseguiti su Ethereum che capitalizzano per una percentuale altrettanto abbondante come più o meno quella di Ethereum stesso, di Ether stesso. Arriviamo quasi al 90% dell'intero mercato se conteggiamo tutti e due gli ecosistemi. Quindi sono effettivamente quei due asset che ci fanno capire quello che è l'andamento del mercato. E in primis andiamo a vedere Bitcoin e come sempre le sue diverse finestre temporali. Settimana scorsa c'è stato come andremo a vedere anche un ribasso molto molto importante, qui lo vediamo a metà settimana, sono arrivate delle notizie lato Federal Reserve di cui discuteremo. Comunque c'è stato un andare a tradare, andare a speculare su queste informazioni per poi riprendere determinati livelli che sono addirittura superiori a quelli di quelli di lunedì scorso. Nonostante la settimana sia stata praticamente nulla o neutrale vediamo che in realtà poi con l'andamento, con il passare delle ore durante il lunedì passato andiamo addirittura a vedere un rialzo nel settimanale. Con un mese fa che ci segna il prezzo a 26.800 e con gli attuali 26.400 diciamo che non ci stiamo muovendo più di tanto, è un periodo di lateralizzazione totale. Anche un anno fa, adesso in questa finestra temporale, vediamo un prezzo più basso. Infatti al 21 giugno o 20-21 giugno del 2022 il prezzo era circa 20.500 dollari. Quindi l'andamento e il trend diventa positivo anche su questa finestra temporale. Andiamo nel dettaglio, vediamo cosa è successo con le candele giornaliere sulla coppia BTC-USD mercato Coinbase. Ecco che quello che stavamo osservando come andamento all'interno di un range di prezzo, all'interno di una fascia più allargata, quindi dai 25.000 ai 30.000 dollari, il prezzo si mantiene qui dentro e ha una sua resistenza verso l'alto rappresentata da quella che è la media mobile semplice degli ultimi 50 giorni. E questo sembra oramai evidente con il supporto appunto a 25.000, supporto che ha tenuto proprio durante la metà della scorsa settimana, quindi tra il 14 e il 15 giugno, per poi fare questo rimbalzo e riprovare a testare la resistenza verso l'alto. La nota positiva che stiamo osservando ormai da diverso tempo è questo trend rappresentato dalla media semplice degli ultimi 200 giorni con questa linea verde che è a rialzo praticamente da marzo e quindi c'è stato un lateralizzare da inizio anno, ma poi da marzo in poi abbiamo visto questo trend a rialzo del prezzo, quindi lentamente una media che si alza, porta il suo supporto ancora più in alto e raggiunge quello che era un altro livello importante, quello dei 24.000. A questo punto 24.000 diventa un supporto davvero forte per il prezzo, che anche se dovesse vedere un altro scivolone probabilmente si potrebbe andare a fermare in quel punto. Adesso le due medie sono molto più vicine e a livello strutturale e tecnico, diciamo che il mercato e il prezzo di bitcoin si presenta in un modo molto migliore rispetto a quando, nonostante il rialzo molto importante verso i 30.000 di aprile, le due medie si erano andate a separare di molto e quindi la volatilità era attesa. Questa è l'analisi, non c'è molto da dire anche perché non sappiamo se effettivamente, viste le notizie che stanno arrivando, la spinta potrà portare nuovamente il prezzo sopra, prima sopra questa media arancione e poi ripuntare verso i 30.000 oppure andare verso quella verde. Quello che possiamo sapere è quello che avviene a livello di dati fondamentali e abbiamo un nuovo record, andando a osservare appunto dati on-chain, di fuoriuscita. Infatti il livello di bitcoin depositati sui exchange a livello percentuale si porta a un livello che non vedevamo da 5 anni circa, all'11.77%. Queste sono le monete circolanti depositate sui exchange. è normale ci sia stata una fuoriuscita così evidente perché le notizie principali arrivano proprio con attacchi rivolti verso i grandi exchange, in primis Binance e Coinbase. Questo lo abbiamo visto anche nello scorso Crypto Monday, ci sono delle evoluzioni importanti, comunque si è ancora un trend molto molto forte, in molti si sono messi paura e forse finalmente si comincia a prendere un andamento nel quale si tende a detenere le proprie monete all'esterno, quindi al di fuori degli exchange con una self-custody. Processo non semplice che richiede un aspetto educativo e di sicurezza importante, ma in queste fasi in cui effettivamente come stiamo vedendo non c'è una grande fretta, perché qui stiamo parlando di un prezzo che si muove più o meno sullo stesso livello, ormai da tempo, da mesi, c'è anche il tempo appunto per approfondire, quindi meno tempo dedicato al trading e più tempo dedicato all'approfondimento. Questo è un mio consiglio e sì potrebbe anche essere un consiglio finanziario. Andando a vedere quello che è successo a livello fondamentale, la notizia importante che arriva al 13 giugno sono i dati relativi all'inflazione nel mese di maggio e abbiamo visto un ribasso molto importante, quindi l'operatività portata dalla Banca Centrale Americana, dalla Federal Reserve, con il rialzo dei tassi che sta mettendo in ginocchio a suo modo tutto il sistema bancario, quantomeno sta avendo degli effetti sul contenimento dell'inflazione del dollaro. Questo si porta al momento al 4%, ancora molto lontano dal 2% desiderato, ma nonostante tutto le aspettative erano peggiori e quindi comunque un po' tutti possiamo vedere in questo un ottimo risultato, quantomeno è stata contenuta quella che è la svalutazione della moneta, considerata lo standard monetario internazionale. Questo discorso porta anche a una decisione molto importante da parte della Federal Reserve che annuncia una pausa sul rialzo dei tassi di interesse. Dopo 15 mesi di rialzi sembrerebbe prendere una pausa, quindi i mercati avranno un respiro. La cosa strana è che, come osservavamo, scorsa settimana c'è stato comunque poi un crollo repentino del prezzo, crollo forse è una parola esagerata, c'è stato questo dump nel prezzo proprio a seguito, poche ore a ridosso dell'annuncio da parte della Federal Reserve, di mettere in pausa il rialzo dei tassi di interesse. Questa è una cosa strana perché in realtà se dovesse tornare un ribasso sui tassi, un incentivo a, tra virgolette, l'easy money, anche i mercati considerati a rischio dovrebbero avere un risultato positivo, quindi i mercati tornerebbero ad essere un pochino più coraggiosi, la liquidità potrebbe fluire nuovamente verso asset considerati speculativi o a rischio, a partire poi dagli asset finanziari come azionario e altre tipologie più tradizionali, per poi arrivare anche nel mondo cripto e quindi riportare un'ondata di domanda che si era andata un po' a scemare, che si era un po' persa nell'ultimo periodo, quello relativo a questi 15 mesi di rialzi. E allora a quel punto perché a seguito dell'annuncio invece il prezzo è andato a calare? Questo perché la pausa sembra essere solo temporanea, anzi non è che sembra. Diciamo che Jerome Powell è stato abbastanza chiaro e ha annunciato che questa sarà solo una pausa temporanea. Non è finito il rialzo sui tassi, anche perché lo hanno detto più volte e sembrano essere convinti nel farlo. La lotta all'inflazione vuole continuare, vuole portare comunque quello che è un target più basso, magari non sarà il fantomatico 2%, ma comunque deve mantenere un livello più basso di quello che è il 4%. E quindi adesso si fa una pausa, anche perché come avevamo visto la situazione bancaria ha visto già delle situazioni abbastanza critiche con diverse banche che sono andate a pagare il conto di questi rialzi e adesso si prende un sospiro di pausa, un sospiro di sollievo, ma non è finita qui. La tematica fondamentale di questa settimana comunque è tutta rivolta agli attacchi a livello regolamentativo che sta portando avanti la Security Exchange Commission americana nei riguardi di diversi operatori finanziari del mondo cripto, quindi principalmente exchange o custody service come Binance e Coinbase. Una delle notizie principali che riporta poi il mercato a salire e che va a coincidere poi anche con un rimbalzo che arrivava su un determinato supporto, quindi qui per unire due discorsi non è che questo supporto ha permesso il rimbalzo del prezzo, ma quando c'è un livello di supporto e una coincidenza di annunci di un certo tipo, c'è la fusione di due effetti e appunto quello che poteva essere un rimbalzo più corposo diventa invece un rimbalzo su quel supporto. È un po' così che avviene, per questo motivo è anche imprevedibile poi andare a vedere se c'è un rimbalzo oppure no. In ogni caso, questa è una notizia molto importante BlackRock sembrerebbe essere pronta per presentare il suo ETF spot. ETF spot che sappiamo non esistere negli Stati Uniti e pratica portata avanti ormai da diverso tempo da diverse istituzioni, da diverse compagini in questo momento questa potrebbe essere quella più accreditata al successo perché BlackRock è uno dei fondi di investimento, uno degli hedge fund più importanti, più pesanti al mondo. Probabilmente è anche errato definirlo un hedge fund, qui leggo direttamente da Google per non sbagliare. È un multinational investment company basata a New York che ha sotto la sua gestione asset per 10 trillion USD, quindi 10 mila miliardi di dollari. Qui parliamo di un colosso della finanza e l'interesse che dimostra verso l'asset numero uno del settore è un interesse ormai evidente e a questo punto anche una legittimazione di tutto il settore. Questo mi sembra abbastanza evidente. Ovviamente questa notizia è stata coperta un po' da tutti i lati e una cosa interessante per noi del settore è quella del sapere che a livello di custody la compagnia, la società che si associa a questa proposta di ETF è Coinbase come servizio di custody ufficiale per l'ETF perché per un ETF spot i Bitcoin ci devono essere e verranno custoditi appunto tramite Coinbase Custody Trust mentre invece per la parte fiat il supporto sarà dato da Bank of New York Mellon che sappiamo essere una delle più grandi banche crypto friendly degli Stati Uniti. Il grande vincitore in questo momento di questa notizia sembra essere Grayscale che sappiamo essere un trust con i suoi GBTC che finora avevano visto un lungo periodo con un premium davvero importante che cosa vuol dire? Che il costo di GBTC nonostante debba essere coperto uno a uno con dei Bitcoin aveva un prezzo addirittura più basso, più basso addirittura del 44% rispetto al mercato spot di un singolo Bitcoin. Questo aspetto davvero strano da vedere in quanto teoricamente il costo per noi che sappiamo come utilizzare probabilmente questo asset dovrebbe essere addirittura più alto rispetto al mercato spot in quanto i GBTC vengono anche bloccati, hanno un lock al prelievo che dura se non erro almeno sei mesi e quindi il costo sarebbe in teoria dovuto essere anche più alto però in realtà questo era l'unico strumento finanziario regolamentato con il quale alcuni istituzionali potevano poi affacciarsi a questo settore e avere dei Bitcoin in gestione. Il punto è che visto il grande collasso che è arrivato durante il 2022 con hedge fund come 3Eros Capital che hanno visto la loro debacle a seguito dei vari problemi, uno su tutti, Terra Luna e il sistema Anchor a quel punto gli investitori sono andati via da questo strumento e hanno visto un grande calo di domanda, di interesse portando un premium, ossia uno sconto del 44% sullo strumento. In questo momento a seguito dell'annuncio della proposta LTF da parte di BlackRock questo sconto è andato a diminuire almeno 36.6% quindi è un segnale molto molto importante che arriva dal lato finanziario e anche di fiducia verso questa nuova proposta. In effetti se non ce la farà BlackRock a vedere il suo ETF approvato beh io credo che sarà molto difficile per chiunque altro. A questo punto però ricordiamoci sempre che questo è un processo molto lungo quindi inizia magari in queste fasi e potremo vedere la sua realizzazione o la sua approvazione addirittura tra un anno quindi è molto probabile che questo arrivi magari nel 2024 che poi sembra essere una coincidenza, non coincidenza quella che queste cose possano poi concretizzarsi e maturare tutte quante insieme nell'anno in cui arriva anche l'alving su Bitcoin e quindi la sua inflazione va a diminuire notevolmente va a dimezzare proprio matematicamente e quindi il tutto potrebbe riportare la prossima spinta e il prossimo mercato rialzista. In queste fasi niente è certo, non abbiamo certezze che queste cose avvengano però diciamo che è meglio rimanere sintonizzati, prepararsi, studiare, colmare tutti i gap che abbiamo perché se tra un anno queste cose si realizzano non averne approfittato in questo momento potrebbe essere il più grande pentimento della nostra vita. Questo ci tengo a dirlo soprattutto in queste fasi non ripeterò queste frasi quando le euforie, quando le persone saranno nuovamente tutte interessate a sapere di come muoversi. Intanto quello che sta avvenendo a livello geopolitico è molto interessante infatti gli Stati Uniti stanno sferrando un attacco ormai molto serrato a livello di regolamentazione per limitare comunque l'interesse verso asset alternativi al dollaro e tutto ciò che sta avvenendo a livello di regolamentazione sembra più orientato in questa direzione che a reale tutela degli investitori questo è quello che sembra essere la sensazione che trapera e di questo ne vuole approfittare soprattutto il mondo asiatico c'è Hong Kong che sta praticamente spingendo i suoi istituti finanziari a fare un onboarding di tutti i scontenti di tutti coloro che non riescono ad operare da altre parti infatti l'Hong Kong Monetary Authority, questo HKMA sembra dire che stanno avendo una pressione da parte della banca centrale di Hong Kong per prendere come clienti dei crypto exchange quindi stanno diciamo a livello centrale spingendo verso l'accettazione di alcuni servizi cercando di approfittare della fuga o comunque della problematica burocratica che sta vivendo gli Stati Uniti cercando di prendere anche il flusso che viene da questo settore anche perché è un mercato sì piccolo ma potenzialmente molto molto liquido intanto Hong Kong e Hong Kong Monetary Authority si prepara al rilascio del IHKD ossia della CBDC che rappresenta il dollaro di Hong Kong emessa direttamente dall'autorità di Hong Kong e dalla banca centrale quindi anche Hong Kong ha il suo progetto di moneta digitale emessa dalla banca centrale e sembra ormai alle porte questo sarà un trend molto forte e secondo me in contrasto con quello che vedremo appunto nel prossimo ciclo e nella prossima rinnovata forza che arriverà su Bitcoin intanto la grande disputa, quella che ha suscitato tutta la paura e l'incertezza e il dubbio di questo ultimo periodo ossia le varie accuse, le varie cause portate avanti da parte della SEC verso Binance e verso Coinbase sembrano arrivare a una fase di accordi quantomeno lato Binance US si raggiunge un accordo con il regolatore e sembrerebbe essere che Binance US e la US Security and Exchange Commission, la SEC trovano un accordo per il quale solamente gli impiegati di Binance US avranno accesso ai fondi dei clienti e quindi questi fondi non potranno essere controllati da Binance casa madre o comunque da CC o società legate a CC e questo permetterà quindi anche di non congelare quei fondi e di permettere i prelievi e tutta l'operatività che si vuol fare da parte dei vari utenti inoltre c'era un'altra accusa, quella che CC avesse mosso 12 miliardi di dollari di fondi da Binance a una sua controllata, ossia Merit Peak però sembrerebbe che non ci siano poi prove certe di queste accuse quindi lo stesso CC è riuscito a difendersi anche da questi tipi di attacchi senza prove certe che questi fondi siano poi stati utilizzati in questo modo in più c'era stato tutto un altro food secondo il quale lo stesso Sean Peng Zhao avesse poi venduto Bitcoin per andare a gonfiare BNB questo è un po' la paura che arriva secondo me a seguito di tutto quello che è successo nell'anno passato più o meno stesso periodo quando c'era la grande vendita di Bitcoin su Terra Luna e quel sistema lì secondo me tante volte si tende ad avere dei fantasmi che tendono a riportare le cose a quello che si conosce non sembrerebbe esserci prove neanche qui di queste cose nonostante poi si siano scatenati tante accuse anche su Twitter di diversi personaggi parlano di watch trading e altra tipologia di operatività poi sicuramente in un exchange così grande ne succedono di tutti i colori di certo come scrive anche Sisi è difficile poi andare a ricondurre tutto un certo tipo di operatività a una singola persona non credo neanche che lui come personaggio a livello personale vada poi a fare grandi operatività per andare in modo così palese a gonfiare il prezzo della sua moneta quando poi ha i riflettori addosso non credo sia così stupido non credo queste cose possano poi sfuggire agli occhi di molti fatto sta che il food è veramente veramente elevato ma come spesso accade quando c'è una disputa e una battaglia o una guerra in generale a perdere sono un po' tutti non c'è solamente chi attacca e qui in questo caso c'è anche Gary Gensler cioè il chairman della Security Exchange Commission americana la leadership della SEC in questo momento che viene accusato dal repubblicano Warren Davidson che addirittura scrive un SEC Stabilization Act e lo propone alla House of Representatives per in qualche modo licenziare praticamente Gary Gensler l'intenzione è quella di introdurre un qualcosa a tutela proprio di questo ente regolatore e poter rendere il tutto più vicino all'utente, al cliente quindi veramente a tutela dell'investitore e non fornire dei poteri verso una singola persona e quindi in questo caso si parla proprio di abuso di potere è un attacco diretto verso Gensler e quindi quello che è il suo operato anche perché oggi ho parlato appunto della proposta di BlackRock per un ETF spot e qui c'è un grande dubbio che in tanti stanno sollevando perché andare a inseguire degli operatori che non sono regolamentati ma sono l'unica forma di approccio che un cittadino americano può avere a determinati asset senza approvare quelli che potrebbero essere poi degli strumenti molto più tutelanti per quelli che sono investitori come ad esempio degli ETF ossia se esistessero degli ETF spot magari molti investitori andrebbero con quello strumento e sarebbero molto più tutelati, molto più sicuri invece adesso l'unica alternativa è portarli su degli strumenti come ad esempio Binance US e quindi andare incontro a molti più rischi l'unica cosa che non deve decidere appunto il regolatore è quello che è l'interesse di un investitore deve fare la sua tutela ma non può impedire che l'interesse di un investitore si porti verso un determinato asset e in questo caso sembrerebbe poi andare in questa direzione il tutto sembrerebbe essere molto molto frenato probabilmente non è interesse degli Stati Uniti quello di far portare dei dollari su degli asset alternativi e non controllati questo sembra ormai evidente al di là di questo pure sulla figura di Gary Gensler escono continuamente dei video diverse citazioni che lui stesso ha fatto e come dissi anche in passato in uno scorso Crypto Monday queste cose sono abbastanza stupide a mio modo di vedere perché è normale che in un video in cui c'è una spiegazione magari anche tecnica di Gensler del 2018 in una conferenza a Bloomberg lui potesse aver detto determinate cose e adesso in tanti dicono guardate e cosa andrà a dire adesso questo tweet è del 12 giugno 2023 cosa andrà a dire Gary su questo video questa volta che è un deepfake perché in questo video Gary Gensler dice che Bitcoin, Ether, Litecoin e Bitcoin Cash non sono delle security quindi si esprime in modo molto molto diretto e a questo punto visto che nel 2018 in questo video, in questa spiegazione a una conferenza Gensler aveva detto queste cose adesso non può più dire che queste cose sono delle security questa cosa mi sembra abbastanza stupida ripeto perché dal 2018 ad oggi questi stessi asset sono cambiati in modo eclatante soprattutto Ethereum e magari anche Litecoin ma lo stesso Bitcoin Cash è cambiato molto Bitcoin ha visto degli aggiornamenti nonostante siano stati minori meno rispetto agli altri ma pensiamo solamente al fatto che Ethereum in questo momento in cui Gensler parlava in 2018 era con Proof of Work e invece in questo momento è in Proof of Stake e già questo cambiamento è radicale quindi fare determinati tweet non ha senso ma questo è un qualcosa che avviene molto spesso online personalmente lo dissi anche in passato mi è successa la stessa cosa vengono presi dei video che ho detto magari nel 2016 o nel 2017 vengono riportati nel 2023 come se le cose poi non fossero cambiate come se le persone non potessero mai cambiare o fare delle affermazioni delle quali poi cambiano totalmente opinione e questo viene ripreso poi viene ripreso anche il video in cui viene messo sotto pressione sulla domanda se Ethereum sia una commodity o una security e al quale non riesce a rispondere di questo ne abbiamo visto già un frammento di cui vi faccio vedere un estratto e ve lo metto direttamente come link qui in alto a destra chiudendo la pagina politica andiamo sulla pagina tecnologica perché di novità ce ne sono davvero tante devo essere costretto a limitarmi a qualcosa comunque visto che sono solamente annunci in questo momento mi limiterò a seguire gli annunci fatti uno dei più importanti secondo me è quello di Polygon che annuncia la sua versione 2.0 quando un progetto di questa portata mette il numero 2 davanti alla versioning vuol dire che c'è qualcosa davvero di grande ed è importante un passaggio radicale dello strumento tecnologico e in questo caso sembra essere così Polygon annuncia praticamente questo value layer of internet quindi a quanto pare una struttura che permetterà la gestione di diverse chain interconnesse basate sulla tecnologia zero knowledge proof quindi questo ZK che adesso si sta implementando con molta forza su diverse strutture e anche su ZK EVM proprio di Polygon che è un layer 2 di Ethereum legato a Polygon stesso questa tecnologia andrà a creare una nuova infrastruttura che andrà a vedere Polygon come infrastruttura di reti quindi come se fosse un nuovo strato sopra internet che andrà a agire e a funzionare proprio come internet di blockchain un discorso che è stato preso diverse volte ma che ancora fatica davvero ad emergere vedremo quelle che saranno le evoluzioni tra l'altro hanno annunciato un calendario di annunci proprio oggi verrà spiegato l'evoluzione della Polygon Proof of Stake settimana prossima, lunedì prossimo ci sarà l'architettura e lo stack poi le novità sulla nuova tokenomics sulla nuova economia del token al 10 luglio e al 17 luglio c'è tutto l'annuncio su come funzionerà poi la governance quindi dobbiamo rimanere aggiornati altro annuncio molto importante e che a mio modo di vedere rivoluzionerà ancora una volta la DeFi sarà quello di Uniswap V4 infatti se oggi abbiamo questo versioning per i exchange decentralizzati magari qualcuno non lo sa è proprio grazie a Uniswap Uniswap che nella sua prima versione, nella versione 1 permetteva gli scambi tra la moneta ETH e dei token ERC20 nella sua versione 2, quella che è la più diffusa a livello di exchange decentralizzati crea ovviamente oltre al concetto di pool e quindi questi scambi che avvengono e questo avveniva anche nella versione 1 nella versione 2 permette lo scambio tra token e token quindi quando andiamo su Uniswap e possiamo scambiare un ERC20 con un altro ERC20 e poi tutta questa derivazione di concetto che arriva anche su tantissime altre strutture di exchange decentralizzati anche non su Ethereum derivano proprio da questa idea nella V2 la V3 cambia ancora una volta i giochi perché immette il concetto di liquidità concentrata di ranging di prezzo e la curva si ristringe c'è un'ottimizzazione sia dei costi che della struttura stessa proprio grazie al ranging di prezzo in questa V4 la nuova idea è quella di introdurre degli UX ossia una dinamicità dei liquidity providing una nuova struttura di liquidity pool che potrà essere customizzata direttamente dai vari sviluppatori per il caso d'uso specifico quindi non sarà più generica non ci sarà un unico modo di fare liquidity providing e un settaggio iniziale che poi deve essere mantenuto tale pensiamo soprattutto alle fee quindi quello 0,3% che viene settato all'inizio ma ad esempio si potranno la V4 supporterà una fee dinamica per le pool potranno essere fatti dei limit orders sull'exchange decentralizzato quindi settare praticamente un take profit uno stop loss sulle varie posizioni e poi questo time weighted average market maker che andremo a vedere come potrà funzionare poi nel dettaglio perché al momento questi sono solamente annunci anche se è già stato condivisa parte del codice perché c'è una call to action proprio a contribuire e questo praticamente permetterà di avere meno impatto su grandi volumi perché a quanto pare permetterà di andare a mettere una sorta di delay sugli scambi che coinvolgono ordini molto grandi e andarli a diluire un po' nel tempo sto giusto accennando le idee perché ancora non ho fatto un approfondimento dettagliato su questa nuova versione d'altronde è appena arrivato questo è un annuncio della scorsa settimana e un qualcosa che ha ancora pochi dettagli da poter scoprire ma la cosa bella del bear market è proprio che abbiamo tutto il tempo per andare a studiare questi nuovi trend per andare a studiare queste nuove soluzioni e queste sono le soluzioni che andranno a caratterizzare il nuovo ciclo quindi trend importanti come quelli dei vari layer 2 trend di ottimizzazione del mercato e gestione della liquidità e poi abbiamo tutti i trend legati alla sicurezza e alla privacy da questo punto di vista un grande riassunto ce l'ha fatto anche Vitalik Buterin che in questo suo ultimo post ci va a descrivere quali sono le challenge che Ethereum deve risolvere per poter avere successo se non riuscirà a fare queste tre cose Ethereum potrebbe fallire quello che ci dice appunto il suo fondatore il suo cofondatore Vitalik Buterin e per andare incontro alla prossima evoluzione di Ethereum vede una risoluzione che ripropone una sorta di trilemma che si basa su questi tre aspetti L2 Scaling Transition Privacy e Smart Contract Wallets quindi andare a migliorare l'efficienza della struttura e questa volta il tutto sarà basato su tecnologie layer 2 e nuovi layer di scalabilità stiamo vedendo la trazione che sta prendendo il sistema con i vari Arbitrum, Optimism questi sono Optimistic Rollup e poi tutto quello che sta nascendo a livello di Zero Knowledge Rollup con appunto ZKIVM da parte di Polygon con ZK Synchera, con Scroll e tanti altri adesso sta arrivando anche Linea che è la soluzione nativa consensus proprio per ZK Zero Knowledge Rollup poi c'è tutto l'aspetto legato alla sicurezza nei wallet e al miglioramento di questi aspetti e tutto ciò che riguarda la privacy e il miglioramento che la privacy deve portare che il sistema deve portare a livello di privacy e questo è quello che secondo Vitalik porterà al successo o al fallimento di Ethereum anche qui vi lascio tutti i dettagli proprio elencati in questo post spesso e volentieri in questo settore si è interessati a capire i trend ma per capire i trend basterebbe leggere questi post secondo me quello che avverrà sarà proprio andare in questa direzione quindi banalmente anche solamente leggendo questi tre aspetti abbiamo un'idea di quelli che sono i grandi trend da qui al prossimo ciclo rialzista del mercato da qui alla prossima corsa che riporterà quell'euforia che abbiamo imparato a conoscere ormai diverse volte in questo settore questa volta probabilmente anche con una leva ancora più ampia a questo punto il mio invito è quello di approfondire queste cose farlo adesso che c'è la possibilità e la tranquillità di poterlo fare e poi raccoglierne i risultati in futuro e quei risultati sono life changing sono davvero un qualcosa che ci cambierà la vita se abbiamo seminato bene in questa fase e per seminare alle volte basta anche metterci l'impegno non tanto un apporto economico infatti questo non è un mio invito all'investimento anzi e per farlo cerchiamo anche di offrire le soluzioni adeguate e quello che si può fare mettendo sul tavolo la nostra esperienza e il nostro know-how cercando di guidare in queste fasi di questo periodo davvero difficile voi per alcuni la prossima occasione arriverà giovedì infatti questa settimana coinsquare raddoppia siccome settimana scorsa non c'è stata la live questa settimana si raddoppia e ci saranno due appuntamenti live il primo sarà mercoledì 21 alle 21 e lo farò vedere tra un attimo il secondo sarà giovedì 22 sempre alle 21 e questo è proprio legato a questo aspetto che ho appena commentato quello di andare ad approfondire le tecnologie che creano i trend del momento e in questo momento questa cosa sta avvenendo soprattutto sulla scalabilità e sui layer 2 ed è proprio la tematica principale di approfondimento che stiamo prendendo su CoinDrop se siete interessati a questo discorso e io vi consiglio ancora una volta di interessarvi a questo discorso faremo un webinar del tutto gratuito per approfondire proprio questa tematica giovedì 22 alle 21 mancano tre giorni il mio invito è quello di iscrivervi ripeto il tutto sarà gratuito ed andremo proprio ad approfondire la tematica legata ai layer 2 alla tecnologia e tutto quello che può portare poi anche a livello di airdrop perché è questo il punto andando ad imparare in queste fasi senza un grande coinvolgimento o esborso economico si può andare a essere remunerati e premiati proprio da quei progetti che vogliono farsi conoscere tramite la distribuzione di airdrop e andremo a vedere determinati casi studio in diretta proprio durante questo webinar quindi iscriviti se non te lo vuoi perdere inoltre il giorno prima mercoledì come sempre su CoinSquare andremo a fare la live con un ospite d'eccezione Gianluca Landini di StableComp andremo a trattare una delle tematiche più interessanti di questo periodo e in questo momento ossia come mettere a rendita le stable coin in questa fase in cui il mercato potrebbe subire un'alta volatilità e magari in molti hanno un cuscinetto parcheggiato in stable coin magari in self custody quindi non su exchange centralizzati andremo a vedere e andremo a trattare la tematica di come mentre si fa un holding di quegli asset custoditi proprio per le emergenze si può andare poi a metterle a rendita e come ottimizzare questo tipo di gestione questo mercoledì 21 alle ore 21 in diretta su CoinSquare canale YouTube per questo lunedì è tutto tornerò con il Crypto Monday come ogni lunedì il prossimo lunedì ossia il 26 e andremo anche a vedere le novità legate sia a Polygon e quindi questa sua V2 a quel punto avremo più informazioni soprattutto lato Proof of Stake e poi aggiornamenti importanti che arriveranno sicuramente questa settimana e anche un aggiornamento molto importante che arriva lato Metaswap il progetto che ho cofondato e che vuole portare uno strumento finanziario come gli Edging Contract all'interno della DeFi questo perché il tutto si lega proprio alla tematica Layer 2 in quanto stiamo arrivando al rilascio su Optimism il tutto lo vedremo lunedì prossimo oltre ovviamente agli aggiornamenti su quello che sta succedendo a livello macroeconomico a livello di analisi fondamentale, on-chain e a livello di prezzi con le notizie più importanti della settimana grazie a tutti per essere stati con me anche oggi buona settimana e buon Crypto Monday Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti